Oh, la mia batteria è fantastica! Sono poi bravissima a suonarla! Non vedo l'ora di farla vedere ai miei nuovi amici! È stupenda! È del mio stesso colore! Sono diventata bravissima a suonare il piano! Oh, mi piace, mi piace, mi piace! Non vedo l'ora di farlo sentire ai miei amici! Ho fatto un sacco di progressi! Diventerò sicuramente una pianista super fantastica! Sarò la più... come dire? Sarò la numero una! Ecco, perché sono diventata bravissima! Tu 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 tu! Wow, la mia chitarra è fantastica! Nessuno sa suonare come me! Non vedo l'ora di farlo vedere ai miei amici! Non ci potranno credere! Sembra proprio che le nostre tre piccole amiche abbiano un punto in comune! La musica! Una la batteria, una il piano e una la chitarra! Oh ragazze, ma ci siete anche voi! Ciao Heidi! Ciao Hello Kitty! Oh, ciao ragazze! Avete visto che bella giornata? Oh sì, è una fantastica giornata! C'è un sole! Non me ne ero resa conto perché stavo suonando! Ah sì, suoni? Che cosa suoni? Oh, io suono il pianoforte! Davvero? Sei una pianista? Eh sì, sono anche molto molto brava! Ma lo sai che suono anch'io? Tu? Veramente? Eh sì, certo! E che cosa suoni te? Beh, io suono la batteria! La batteria? Veramente? Pensate che roba! Io non sapevo che a voi piaceva la musica! Ma neanche noi sapevamo che tu suonavi il piano! Beh, allora vi devo dire una cosa! Cosa? Suoni anche te uno strumento? Sì! Non ci posso credere! Invece ci puoi credere! Suono, attenti attenti, la chitarra! Veramente? Eh, davvero? Sì sì, suona la chitarra! Non me l'avevo mai detto? Eh no! Ah, che strano! Siamo tutte e tre delle musiciste e nessuno l'ha detta l'altra! Ah, interessante! Oh, dai Oli! Fammi vedere la tua chitarra! Sono veramente, ma veramente curiosa! Ah sì, faccela vedere! Ok, venite! Ah, ogni che suona la chitarra la devo proprio vedere! Eccomi ragazze! Fate spazio! Wow! È stupenda! Fiammeggiante! Ma lo sai che la mia batteria è quasi uguale agli stessi colori! Davvero? Ce la devi far vedere! Oli, è stupenda! Oh, grazie, grazie amiche! Ma andiamo a vedere la batteria di Hello Kitty! Oh sì ragazze, venite! Seguitemi! Eccola qua! Guardate, non è fantastica? Wow, ma hai ragione! È uguale alla mia chitarra! È rossa con le fiamme! Non ci posso credere! Oh sì, dovresti sentirmi suonare! Sono bravissima! Wow, proprio bella! Complimenti! Ah, Heidi! Tu hai detto che suoni il piano! Ce lo faresti vedere? Ma certamente! Dai, venite! Oh, sono curiosa! Eccolo qua! Wow! Posso sedermi? Certo! Oh, sempre sognato di suonare il piano! Non sei tanto brava, sai! Ah, ma per forza! Io suono la batteria! Oh, invece a me piace tantissimo suonare il piano! Mi rilassa proprio! wow complimenti haidi grazie grazie amiche siete fantastiche ma mi è venuta un'idea che cosa sì che cosa ho lì potremmo fare una band cioè vuoi dire noi tre sì noi tre va bene però ci manca una cantante ma e dove andiamo a trovare una cantante e c'è nessuno ragazze siete qui mi sembrava di aver sentito delle voci ciao ciao masha ciao amica ciao ragazze cosa state facendo wow ma di chi è questo piano è il mio holly ma suoni la chitarra sì esatto oh masha io invece sono la batteria ma veramente ma lo sapete che io invece sono una cantante ecco l'abbiamo trovata oh cioè avete bisogno di una cantante sì lo stavamo giusto dicendo wow che bello sempre sognato di cantare in una band oh aspettate mi vado a cambiare arrivo subito ecco vedi neanche a farla apposta abbiamo trovato una cantante e lo chiti vai a prendere la tua batteria nel frattempo oh sì hai ragione arrivo oh che bello che bello non mi sembra vero eccomi qua la batteria è pronta bene dovrebbe arrivare masha adesso eccomi ragazze vi presento super masha rock n roll yeah wow masha ma sei stupenda wow siamo una band fantastica non vedo l'ora di iniziare a suonare oh non siamo bellissimi siamo una super band e faremo furore yeah ora bambini vi salutiamo dobbiamo fare le prove ci vediamo nella prossima puntata ciao a tutte